Musica Ti ritroiamo qui a Denna se arrivi anche tu da Palermo una passione quella tua che ti sta portando a grandi successi che noi appunto avendo un amico che si chiama Vincenzo Liberi chiaramente non possiamo che augurarti di proseguire su questa scia come siciliano tocca ecco puoi ricordarci le cose più belle che ti sono successe quest'anno poi parleremo un po' di quelle che possono essere i sogni tuoi per il prossimo tanto vi ringrazio per l'invito ma la cosa più bella è stata per me le quattro vittorie quest'anno ottenute dopo tutti i risultati è mancato quel passo in più per passare tra i professionisti però va bene così, ci riproveremo il prossimo anno assolutamente sì, ecco il prossimo anno secondo te ti ritroverà con maggiore esperienza e quindi hai approfittato di quello che è successo quest'anno dice queste cose qui magari non le faccio più qua magari divento un po' più aggressivo qua magari ho più pazienza perché come tu mi insegni bisogna essere anche dei grandi tattici non solo avere grandi gambe no, prima cosa ci vuole testa, cuore e gambe ecco bravo, esatto quindi dov'è quest'anno peccato il prossimo anno speri di non riuscire spero di no di non farlo senti, il prossimo invece appuntamento più importante dell'anno prossimo qual è per te adesso? ma io spero di riconfermarmi dove ho quest'anno vinto intanto sì, e non pensarci già da adesso perché è lunga la stagione senti, una curiosità perché ognuno di noi aveva nel suo cuore sempre un grande campione a me piaceva Nencini per dire un nome che magari così come mi piacevano Coppi, Bartali sto parlando, sto tornando molto indietro nel tempo quindi dico è così poi ci sono stati i vari vambasso eccetera eccetera dico però ecco poi adesso c'ho Vincenzo che per me è sempre il mio cuore ma perché siamo amici ecco dico un campione invece in realtà dice mi piacerebbe fare una carriera grande come chi? ma come Visconti che è un mio amico e super giù mi si riassomiglio come corriente come stile esatto in questo caso e secondo te invece il più grande ciclista non lo so, per esempio ai tempi c'era Merckx per noi che era un inarrivabile per me anche se non è un corridore da classifica per me è Sagan ah il corridore è numero uno per questo ha vinto due o quattro campionati del mondo senti in bocca al lupo intanto è arrivata adesso la fine dell'anno quindi il momento degli auguri naturalmente tu fai uno sport tuo per il quale sei assolutamente innamorato quindi magari hai meno tempo per seguire il calcio però vogliamo fare un auguri al nostro Palermo capolista e soprattutto anche a tutti i tifosi sperando che diventi presto una grande festa e che 2019 sia effettivamente l'anno della promozione faccio gli auguri alla mia squadra di casa che è il Palermo alla capolista come ben ha detto auguro di buon anno, buon Natale a tutti i tifosi e alla squadra grazie, auguri anche per te e per la tua famiglia grazie 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 grazie